Un presidente verde e convinto sostenitore del biologico. Questa mattina a Pesaro, il nuovo leader di Viale Gramsci, Giuseppe Paolini, che è anche il sindaco di Isola del Piano, ha presentato le linee fondamentali del suo mandato appena cominciato. Un programma che punta soprattutto sul territorio, inteso come risorsa naturalistica, opportunità di rilancio economico e fonte di benessere. Perché secondo il presidente Paolini, che ha una lunga esperienza nel settore bio, una delle cose più urgenti da fare è combattere l'abuso della plastica, cominciando dalle mense scolastiche, dove si potrebbero utilizzare piatti di ceramica invece di quelli usa e getta, anche per educare i ragazzi sin da subito al concetto di riutilizzo. Tutti prodotti a chilometri zero e da filiera biologica. Un concetto che, se applicato con attenzione e intelligenza, può addirittura generare risparmi, oltre ad aumentare decisamente la qualità delle vivande. Sicuramente partiamo dalla tutela ambientale. Come ho già espresso, vorrei fare una battaglia contro tutta la plastica che viene abbandonata nell'ambiente. Perché diciamo che anche andare in un bosco, vedere dei sacchetti di plastico, delle bottiglie di plastica abbandonate, o andare a mare e vedere delle bottiglie che galleggiano è qualcosa di orribile e orripilante, che dovrebbe spaventare tutti perché poi abbiamo il problema delle microplastiche, eccetera. Per cui l'idea mia è quella di creare delle azioni e magari anche delle cooperative che tutelino tutto quello che è il nostro patrimonio boschivo, prevedendo delle strade tagliafuoco, prevedendo la manutenzione degli scoli d'acqua, delle pulizie, eccetera, eccetera, che possa creare un reddito anche posti di lavoro per alcuni giovani ed evitare che abbiamo poi bombe d'acqua che arrivino su Fano e su Pesero creando dei problemi. Cioè è un problema che abbiamo ad Apecchio, sicuramente non deve riversarsi su Fano, ma dobbiamo risolverlo strada facendo man mano che scende l'acqua, cercando di intervenire in queste situazioni. Poi la tutela dell'ambiente, ma anche un grosso problema che c'è è la presenza di cinghiali. So che affronto un tema scottante, ma potrebbe anche essere che una cooperativa che nasca possa anche prevedere una gestione e controllo anche dei cinghiali e di tutti gli ugolati che ci sono. Allora, biologico è nel mio cuore, io parlo di biologico, ma parlo anche di eccellenze delle marche. Cioè noi abbiamo tanti produttori che fanno delle eccellenze e magari sono poco conosciuti. Ecco, cercare di fare rete tra tutti, penso, per esempio, pensiamo alla pasta, noi abbiamo alcune aziende che fanno pasta biologica, altre aziende che non fanno pasta biologica. Penso a Columbo piuttosto che a Mancini che sono qua di queste zone. Ecco, sono delle paste d'eccellenza, ma tranquillamente vanno tutelate tutte. ...e attività commerciali.